Un commento sulla gara di Flavio Delgatto e anche per le prossime tre partite che mancano alla fine. Sì, è detto bene. Noi stasera non ci giocavamo praticamente niente, almeno nel quarto posto, che è l'unico obiettivo che ci rimane, perché salvi san salvi e quindi potevamo aspettarcelo che loro si giocassero tutto, in fin dei conti. L'Università prende tre punti importanti per la loro classifica, per la salvezza, mentre Sazzana dopo una partenza dove la squadra poteva ancora imparare gli schemi di Rinaldi, alla fine è venuta fuori e ha meritato un bel quarto posto, diciamo, più o meno, che tu avevi pensato alla fine. Sì, beh, ancora da giocarselo questo quarto posto.